Come annunciato già nelle scorse settimane, cambierà la gestione dei pazienti che arriveranno al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara. Le novità sono state illustrate questa mattina dall'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal gruppo consigliare della Lega di Pescara, che aveva incontrato nei giorni scorsi i vertici della locale ASL. Quello che si evince oggi è che sono stati risolti dei problemi fondamentali che vanno su tre linee fondamentali. Uno di questi è la riorganizzazione degli accessi, la gestione delle cure e soprattutto le dimissioni. Hanno subito attuato e rafforzato quello che noi abbiamo definito nella fase della nostra programmazione regionale, la fast track, ossia quei pazienti in codice verde, giallo, vanno direttamente nei reparti e quindi non rendono affollato sempre di più il pronto soccorso. Sono state aggiunte proprio delle discipline riguardo a questa presa in carico di questi pazienti e quindi si sta andando verso una riorganizzazione e quindi nuovi percorsi organizzativi. Intanto, come ha spiegato il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, è tutto pronto per la centrale unica del 118 Pescara Chieti, che in questo senso servirà anche a sgravare di accessi l'ospedale Spirito Santo. Che carenze è una organizzazione diversa, quindi vuol dire che il nuovo 118 con un coordinatore che vedrà Pescara e Chiedi come centrale unica potrà gestire il traffico delle ambulanze, quindi le ambulanze andranno dove c'è meno liste d'attesa.